La democrazia sanitaria è un principio fondamentale per un servizio sanitario pubblico. Ma cosa significa davvero? E come si traduce nella realtà quotidiana? Liste d'attesa, definanziamento del servizio pubblico, sanità territoriale desertificata. In molte zone d'Italia si è costretti ad attendere mesi, a volte anche anni, per una visita specialistica o un intervento chirurgico, soprattutto dopo il primo periodo Covid. I movimenti locali per la riduzione delle liste d'attesa si moltiplicano, poiché un accesso tempestivo alle cure dipende sempre più dalle possibilità economiche dei singoli. Le attuali difficoltà sono anche determinate da una continua riduzione del finanziamento, soprattutto ai servizi pubblici, e dal fatto che la sanità del territorio è stata desertificata. Le risposte continuano a farsi attendere. Aziende sanitarie, privatizzazione, spartizione partitica, centralità economica in sanità e conseguente cancellazione della partecipazione. La creazione delle aziende nella sanità ha portato alla nascita di una figura monocratica, il direttore generale, indicato direttamente dalle maggioranze politiche. Questi, ha il potere di gestire le risorse in modo autonomo e il mandato di gestire la sanità con il fine esclusivo del pareggio di bilancio. Le aziende sanitarie pubbliche, inoltre, sono nel tempo divenute gigantesche, allontanando sempre di più i centri di responsabilità dai territori e favorendo la privatizzazione di vari servizi. La privatizzazione dello stesso servizio sanitario nazionale pubblico è già iniziata. Esternalizzazioni, medici e infermieri a gettone, pronto soccorso privati. I servizi, invece di migliorare, riducono la loro qualità. Si è così determinata la perdita di qualsiasi controllo da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti, spesso imbavagliando anche le critiche del personale dipendente. Regionalismo differenziato e diseguaglianze. La proposta di regionalismo differenziato voluta dal governo Meloni rischia di accentuare le diseguaglianze sanitarie tra le diverse regioni. Inoltre, l'acquirsi delle difficoltà di accesso ai servizi e la contemporanea introduzione delle assicurazioni sanitarie e private potrebbe creare un sistema a due velocità, con i cittadini più abbienti che avranno accesso a cure migliori e più rapide. La democrazia sanitaria è un diritto fondamentale che non può essere negato. La trasformazione della salute in merce, indotto anche dalle stringenti politiche di austerità europee, deve essere fermata. È necessario rimettere al centro le persone e le loro esigenze attraverso la partecipazione, e garantendo a tutte e tutti la tutela della propria salute con la prevenzione primaria e un accesso equo e tempestivo alle cure.